Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo ottavo episodio della Solink con Yashi Channel Bella ragazzi Allora, 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 siamo qui oggi per fare cagare, no dai Siamo con la squadra completa, incredibilmente Pappi, squadrone della monta Allora, vi ricordiamo che questa serie è sui nostri canali il lunedì, il martedì, il giovedì e il venerdì Il lunedì e il giovedì sul loro canale Grazie a tutti, bravo E il venerdì sul mio canale Il loro canale lo trovate qui in descrizione Ricordatevelo Ci sarà anche la playlist comunque, se sto facendo qualche episodio Esatto, c'è anche la playlist sotto, trovate i nostri social, almeno i miei, sul mio canale e il loro su loro Chiaramente Il mio gruppo Telegram, Patreon, Facebook, Instagram, Twitter e keeping up in a me Tutte aree, ci saranno anche le foto della nonna Esatto, le foto della nonna, no, quelle in arrivo, quelle in arrivo Comunque, la nostra squadra la vedete qua in alto e adesso andiamo a vedere un attimino da chi è composta Come si è ammessi Allora, abbiamo il nostro Etna, mio Etna Che è, ah, attacco rapido, mega pugno e osomerang Che è solo linkato con Whid Il nostro Whid Che ha tuono, doppio ago, somerang e idropompa È palesemente più qui di Etna Chiaramente Vabbè, chiaramente Finché non imparerà, taglio Poi quando impara taglia Esatto, esatto Poi abbiamo New Pugile, Monkey Con Fossa, Bola Raggio, Libra e Frana E' grande Ed è linkato con il nostro Nonovi, che ha avuto Con Leccata, Vora e Libra Che è il nostro più scarso Vabbè, una ratta Poi abbiamo Mr. Krab Con Un grande Con Gibotta, doppio calcio, frustrata e taglio Io sono già frustrata È una donna, una casalinga disperata Desperità o sguardo Ed è linkato con Buatenga, Frana, Terremoto, Sonifra, Idropompa Sì, una bestia proprio Che risponde alla legge del manga Eh già Poi abbiamo trovato Un augello incredibile Con raccordatore, petalodanza, movimento sismico e barriera Un musso stranissimo Linkato con Donatello Grande Donatello Con Bola Raggi, Gero Puglia, Confusione e Beccata Che non si sa con cosa becchi, però becca Becca, becca Lui becca sempre Lui è... Esatto, è stato il buone Poi abbiamo trovato incredibilmente Ucciari Sardi Incredibile Solo Drago Con Kanto, Raffica, Legatutto e Geloraggio Pazzesco Linkato con Qubi, Vulpix Con Tenaglia, Graffo 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 E Beccata I nostri Pokémon beccano Esatto E poi l'ultimo L'ultima aggiunta dello scorso episodio Non è arrivati Tropicale, io vi sarei abbiamo completato il trio degli Starter di Canto Con Comete, Turbo, Sabbia, Fran e Sparalane Invece erano tutti con Fran Paralane Sei una Fran, sai, basta Ed è linkato con Suino Che ha conversione, canta, terremoto e colpo Che non avrà più conversione in questo episodio Prima poi Esistere, esatto Comunque, allora Noi abbiamo deciso di andare Prima a farci una bella cattura qua Perché loro non hanno un Pokémon contagio E se troviamo un Pokémon contagio Sarebbe meglio Le Pokémon ce le abbiamo Sì, 12 12 Aspetta, io ne ho Bella Vediamo una massa Ne ho zero Ne ho zero Allora dobbiamo congelarci Ok Fermi P perfetto Prima Sei difficile Guarda quanti soldi ho Guarda quanti soldi ho Ehhhh, sei ricca, strana, niente Cazzaloe, muocati però CHEEN Arrivo, va, ho finito moving Non ti scongelo Ok allora Fembe Ci siamo Si siamo Andiamo, andiamo Oh yeah Oh lo stesso momento Oooo O的 O O Da á O Leolas Bas Non avere teletrasporto, non avere teletrasporto Ma non ce l'avrà mai dai, leccalo Metto solo Draco e Giaspora Figa se l'ha leccato Viene allevata di vita C'è un graffio quindi No capocciata E' già uno Psyduck normale Esatto, andai subito di Pokemon Psyduck del nasa Non ci sta dentro Leccalo l'antravolto Non vorrei ucciderlo Magari fa un brutto pool Ma non clitta mai neanche per sbaglio Quello è vero però Non rischiamo perché il buon Shea ha la cazzama Preso, preso, preso A posto Che coppia stramba Psyduck ha la cazzama Tutti i Pokemon che hanno poteri giallini Si, giallini, psico Il suo cervello può superare un supercomputer Il suo quotiente intellettivo è di 5.000 Ed è lì che gioca con le cucchiai Il soprannome Psyduck Gangnam Style Psy 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 E io come lo chiamo? Psy Alla cazzama Si insalabim Chiuso di chiamarlo Eh, tipo una roda del genere Se ci sta Io lo chiameremo Tra l'altro Silvan Io lo chiamerei L'edioza L'edioza ma bene mi piace, dai Bene, andiamo subito a vedere se puoi imparare Taglio il meravone E se la scuola E dai, speriamo Ti prego Imposita Un attimo la 9 Si Un attimo la 9 E Psy 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 Impara Psy 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 Energy Psy 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 C'è un weed davanti Si per sicurezza Non si sta mai Sì ma è un posto per bambini questo Marinaio vuole luttare Marinaio Rinnaio vada auf lipx Modiamo adi Bodgy Mamma mia Un buggile Band scout Marinaio Pris Trinatella con gel oragno E' gelopugno Esi Edi gelopugno ioè Se nonpreso più mamma foto Foto forte E con l'elettricità Grazie Sì Giovanotti è arrivato Fuo forte Bibri il... Beleno Oddio, Gelopugno Si, ci sta 34 Ivi Ma io manderei Ivi Buonga Solta Genoa oltretutto, Gelopugna Non è neutro sui Pokémon di foto Polibrat, tuono di weed Ma guarda che è brutto Polibrat, è fatto malissimo Perfetto Ultimo allenatore Oddio Censi Incensi, torna ancora Vincenzo Ci sarà giusto che sai Cazzo, il etta e basso nella palestra è incredibile Cominciamo a lavorare Shai Aspetta che devo tagliare il secondo me Allora, questo Acqua Allora quello sopra Eh sicuramente Comunque ragazzi vedete dei tagli se ci mettiamo troppo tempo direi Si, si, si Perché Acqua 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 Minchia che sete Acqua Acqua Zio cane Palle Acqua Acqua Fuoco Quello sopra Sopra Ok sotto il bidone Premilo Fuoco Secondo lucchetto aperto Secondo lucchetto aperto Yesh Nooo Yesh 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 Subito Che Che Mi aspetto dai Acqua E per forza Fuoco Fuoco Si subito Nooo Zio cane che falle Nooo Rikki Fuoco Fuoco Quale Destra Prima a sinistra della funzione Accra Ricky io non ti devo più ascoltare Sei in un giro Di quello che vuoi Allora dove possiamo essere La potrebbero funzionare Acqua Acqua Ma quanto è forte Ma quant'acqua c'è in sta palestra Foco Di qualcosa Ricky Di fianco Ok giù No La malattia mi sta sopraggiungendo qua Non ce la faccio più Aiutateci Dai hashtag Uno Decide in alto Sinistra No ragazzi è assurdo E' una maledizione E' la maledizione della prima luna E' il secondo sole Fuoco E' proprio quello in mezzo Dai Che sbatti Ma secondo me Non c'è un mezzo Oh finalmente qua due In alto 20 miliardi di like Ragazzi Ora moriremo No Ok siete pronti Sogliamo a fianco Minca storage quanto è ignorante Cercame il suo bidone Terzo lucchetto Masterful Vomito C'è solo vomito qui Ma come vomito Ok Pronti Vai Avete davanti i pokemon giusti Ehi tappo Sì abbiamo messo Ehi tappo Cosa ci fai qui Non ce la farai E la farai a vincere Puoi essere Certo Devi sapere che i pokemon Elettrici Mi hanno salvato La vita in guerra Hanno paralizzato i miei nemici Proprio quello che userà te Perché ti userà tono onda su un pokemon elettro E sarà paralizzato Soverodicello vuole lottare Mark Bello Somerang Clefebola 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 No somerang Anzi donatello Donatello e bu C'è lo puro Sì Buono Kabutops Bello Kabutops Tuono Laggia fiamme Ho imparato laggia fiamme Finalmente Grandissimo Lo testiamo Lo testiamo Lo testiamo Guardate Vai 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 La 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 Brucia malissimo Boom la vita Vai giù E allora E allora E' servibile E' sergi andato ragazzi Terza medaglia in saccoccia Vediamo la MT Bene Contiene Graffio Bello Graffio Dove c'è Qual è La è 24 Non è se siete pieni magari Poi spazio Ah si Siamo pieni Antiscottatura Via dai Che siamo fotti Ah dobbiamo andare a vendere un po' di roba Allora Allora io vi butto lì una proposta Sì Magari Fulmine Magali Vi butto lì una proposta Riposo Beh Lo puoi imparare Boateng Suino Beh Suino Può non essere male Di Di Kachai Allora la mia proposta era Finiamo questo episodio Visto che abbiamo fatto Cioè Abbiamo molto tempo per fare molte altre cose Finiamo questo episodio con un montaggio più veloce di noi che battiamo tutti gli allenatori Che ci sono su questo percorso qua alla nostra Commentate qua sotto E noi ci vediamo con un prossimo episodio Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao